Importanti novità per CNH Industrial, che annuncia il suo nuovo piano strategico quinquennale 2020-2024. Tra i punti chiavi del piano spicca la separazione dell'attività on-highway, segmenti veicoli commerciali e powertrain, e off-highway, segmenti agricoltura, costruzioni e veicoli speciali, che risulterà nella creazione di due società quotate, entrambe leader globali nei rispettivi settori. Il gruppo on-highway di nuova quotazione comprenderà i marchi di veicoli commerciali Iveco, Iveco Basse ed Eolietz Bus. FPT Industrial rimarrà un fornitore chiave del business of highway. La frenata dell'economia e le difficoltà della politica minano la fiducia delle imprese. Il 47% degli imprenditori ammette di avere meno certezze dello scorso anno. È quanto emerge da un sondaggio condotto da SWG per confesercenti. In certezza crescente è anche sul nuovo esecutivo. Solo il 15% degli imprenditori è pronto a scommettere che l'inedita maggioranza possa sostenere un governo per tutta la legislatura. Per il 48% invece l'esecutivo giallorosso partirà ma avrà vita breve. Il 23% ritiene che l'esecutivo non partirà proprio. Gli imprenditori sono invece concordi nel ritenere che il prossimo governo avrà davanti a sé un percorso l'asseccato da difficoltà. E se il tema dell'instabilità politica viene indicato come fattore di incertezza solo dal 14% delle PMI, più pressanti appaiono le questioni economiche. Il 33% degli imprenditori segnala tra i fattori di maggior preoccupazione il peso del fisco. Le famiglie italiane si affidano sempre di più al private banking per gestire i propri patrimoni. Lo certifica l'indagine annuale condotta da Magstel Consulting, società specializzata nell'analisi dei portafogli e delle masse private, che ha analizzato i numeri di 261 operatori finanziari presenti nel nostro paese. Il report evidenzia che al 31 dicembre 2018 il totale delle attività finanziarie gestite dai player censiti nel nostro paese ammonta 944 miliardi di euro. La Lombardia guida la classifica delle regioni italiane nella vendita a domicilio. Nel 2018 le aziende associate Univendita hanno realizzato nella regione un fatturato di 249 milioni 318 mila euro, in crescita del 5,1% rispetto al 2017. La rilevazione del centro-sud Univendita certifica che la Lombardia vale a livello nazionale il 15% delle vendite, che nel 2018 hanno raggiunto la cifra di 1.662 milioni di euro. Nella classifica nazionale, sul secondo gradino del podio dopo la Lombardia, c'è la Campania, 176 milioni di euro di fatturato. Al terzo posto è il Veneto, 161 milioni di euro. E al quarto è il Lazio, 131 milioni. Nel complesso, Sud e Isole realizzano il 35,1% del fatturato. Seguono Nord-Ovest, Nord-Est e Centro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS